Lo sai chi è la cagnolina più dolce del mondo? Cioccolata! Guarda come salto in alto! Io so saltare ancora più su! Che cos'altro possiamo giocare? Giochiamo al nascondino! Sì, dai! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei... Mi metto qui! E così mi vede! Mi metto qui! Guarda quante cose ci sono! Uff, uff, nao! Vieni a vedere! Uff, uff, nove... Eh? Ma sto arrivando! Cosa hai trovato? Uff, guarda! Guarda cioccolata! Questo è uno sparagoriandoli! Facciamolo sparare! Cioccolata, ma sei sicura che possiamo farlo sparare in casa? Sidney non dice niente! Ma figurati! Sidney mi fa fare tutto quello che voglio! E va bene! Uno, due, tre! Wow, come è sparato forte! Ah, uff, i miei occhi! Ciao, io sono Sidney! Ma mi sai dire che cosa è successo a cioccolata? Cioccolata? Abbiamo sparato lo sparagoriandoli e mi è andato a finire qualcosa nell'occhio! Uff, 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 uff! Uff, poverina! Leo, vammi a prendere la cassetta del pronto soccorso, per favore! Eccola qui, Sidney! Grazie, Leo! Mi serve una lente di ingrandimento! Cioccolata, quale occhio ti fa male? Ecco questo qui! Ah, sì! In questo occhietto è andato a finire un pezzettino di coriandolo! Vediamo un po' che cosa mi può servire! Ecco qua! Mi servono delle gocce e dei dischetti per pulire l'occhio! Non ti preoccupare, non ti faccio male, però stai ferma mentre ti pulisco l'occhietto! Oh, come ti senti adesso? Meglio, però mi fa comunque male! Adesso ti preparo un bel tè alla camomilla che puoi mettere sull'occhietto per far passare il dolore, per far calmare un po' l'irritazione! Perché la camomilla non è pronta subito, bisognerà aspettare un pochino che vada in infusione! E mentre aspettiamo che la camomilla sia pronta, guardate quanta sporcizia! Dobbiamo pulire tutto! E comunque, per il futuro, lo spara coriandoli non si fa sparare in casa e soprattutto non senza la presenza di un adulto! Ma che li hai comprati a fare se non ci possiamo giocare? Li ho comprati perché mi stavo preparando per il carnevale, per usarlo in strada! E allora, chi è che vuole passare l'aspirapolvere? Io! Io voglio usare l'aspirapolvere! Mentre Leo passa l'aspirapolvere, io e Cioccolata spaziamo! Brava, Cioccolata! Ho finito! Oh, così è tutta un'altra storia! Quando la casa è pulita! Cioccolata, come sta il tuo occhio? Mi fa ancora un po' male! E va bene, Cioccolata! Adesso che la camomilla è pronta, ti posso strofinare un po' con l'occhietto! Allora, Cioccolata, come va così? Ti senti meglio? Sì, così va molto meglio! Grazie, Sidney! Ma questo tè si può anche bere? È un buonissimo profumo! Ma certo che si può bere! Adesso ne verso un po' a te e a Leo! Questa, Leo, è per te! Oh! Mmm! Grazie! E questa è per te, Cioccolata! Wow, grazie! Mmm! Che buono! Mmm! E quelle caramène è ancora meglio! Mmm! E giusto, così è ancora meglio! E a te piace quando i tuoi amici vengono a giocare a casa tua come Leo con Cioccolata? Mi raccomando, metti mi piace a questo video e iscriviti al canale per non perderti i prossimi giochi del camioncino Leo e della Cagnolina Cioccolata! Ciao!